Bene ragazze, siccome ci siamo presi molto bene oggi, faremo una nuova challenge! Per quello ci vedete acconciati in questo modo ancora. E niente, facciamo anche la Whisper Challenge, quindi in sostanza diremo tre frasi, io dirò tre frasi, Manuel mi dirà tre frasi, l'altro avrà le cuffie con la musica a palla nelle orecchie e dobbiamo indovinare quello che ci sta dicendo. Infatti adesso Manuel si sposterà in avanti, così entrerà nell'area della luce e forse vedrete qualcosa. E partiamo da due, ci sento? Sì. Partite con le frasi e la musica? No, partite con le frasi e con la musica. E facciamo una cosa del genere, ti avvicini e dici le frasi e poi torni qua, così io non ti sento. Usiamo anche il segno, ma. Ma mi avvicino di quella frase? Ti avvicini, dici piano le frasi a loro e dopo le ridici a me piano in modo che io non ti sento. Ma dico una volta solo? Ma se devo partire io? Ma dite la frase, dai. Aspetta che perché non scusi il fai? Sei la miglior cosa. Sei la miglior cosa che mi sono successe, tranchi quando scorreggio. Vieni avanti. Sei, vieni avanti. No, ma scusa ma non mi sento. Ma mi sento. Ma no mi sento, ti leggo. Sei, vieni avanti. Aspetta, 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 un attimo. Sì, ma se dite come ho fatto per dire. Sei. La miglior cosa che mi sia successa. E' un'altra cosa che mi sia successa. E' un'altra cosa che mi sia successa. Cosa cosa si sa? E' un po' di rispettare? E' un po' di rispettare? E' un po' di rispettare. Non capiscono? Chiara è lì? No. E allora ti arrendi, ho vinto io, sei la migliore cosa che mi sia successa tranne quando sto la peggio. Ok, mi fate tutti. Sei troppi, Dio. E non giusto che fai trinta tanto mi senti. Premi dentro bene. Premi dentro bene. Bene. E allora vedi che ci senti. Devo dire la frase lì. Devo dire la frase lì. Eh? Devo dire la frase lì. Questa mattina mi sono svegliata alle sette per andare a lavorare. Premi. Ma vuol dire che mi senti allora? No. Questa mattina mi sono svegliata alle sette per andare a lavorare. Questa mattina mi sono svegliata alle sette per andare a lavorare. No? No. A posto? A posto. Amore, domani ti porto a fare shopping. Sìì! Vi ha andaminato. Ecco, non mi ricordo più a parte. Amore, domani ti porto a fare shopping. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì minuti sulla tabella di marcia, ero in ritardo di 10 minuti sulla tabella di marcia, ma parla piano, ero in ritardo di 10 minuti sulla tabella di marcia, non sento niente, è ora di andare no, ero, 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 oggi sono, sotto, ero in ritardo di 10 minuti sulla tabella di marcia, non capisco niente, parli troppo, ti arrendi? no, ero in ritardo di 10 minuti sulla tabella di marcia, è ora di andare, non mi era mai, è ora, devo andare a farmi la doccia, ero in ritardo di 10 minuti di 5 minuti, no 5, 10, di 10 minuti schiaccia sulla tabella di marcia, sulla marcia, sulla tabella di marcia, quella prima cos'era? non so, era in ritardo di 10 minuti, cosa di prima cos'era? la frase che ti dite prima? quella prima, questa è la seconda, mi sono svegliata alle 7 per andare a lavorare, e questa? ero in ritardo di 10 minuti sulla tabella di marcia, ok, vieni un attimo allora non so se lo capisco ma Manuel è un grandissimo appassionato di sci, quindi questa frase non la dirà mai forse Alberto, mi fa veramente cagare a me mi dispiace ma Alberto non mi fa veramente cagare a te ti dispiace ma mi dispiace a me mi dispiace a me mi dispiace ma Alberto Toma fa veramente cagare a me mi dispiace ma Alberto Toma fa veramente cagare a me mi dispiace ma Alberto Toma fa veramente cagare a me mi dispiace, ma Alberto tu mi fai veramente cagare, quante volte tu dico ancora? Scusami amore per tutte quelle sere che ho mangiato fagioli e ti ho fatto passare la notte in bianco grazie alle mie saette, un attimo che non mi ricordo di una frase, dai, scusami amore per tutte le sere che ho mangiato fagioli e ti ho fatto passare le notte in bianco con e ti ho fatto passare le notte in bianco e ti ho fatto passare le notte in bianco per colpa e poi le mie saette è una troppo facile ma sei scemo facciamo l'ultima l'ultimissima i libri che mi dicono che hai dato su il colore in salotto veramente da schifo ok? e io volevo andare a vedere i colori o ho fatto 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 po' anche se fuori tu mi fico ah Il mega dito? Ancora la prima parola? Sì Guarda l'ho capita Cosa? Le amiche? Le brighelle? Dicono Che quando succhiano? No Che quando? Ho dato il bianco in salotto Il colore In salotto Fa veramente schifo Usa il momento Hanno detto che ho dato su quello qui in salotto e rovete nel schifo Ehm? Volevo vedere il bianco? Oh no! Se volessi andare a vedere? Il loro! Il rosa! Ma cosa c'è questa roba? Non capisco! Noi? No, io volevo anche farlo! Il loro! Io? Volevo! E' finita la musica! Furbo! Giù barato! Che cazzo c'è questa? Questa è da abbassare! Adesso abbiamo una dei problemi! Dai! Io! Volevo andare a vedere! I collos! Che collos? I collos? Ce ne sono tante! Adesso facciamo una nuova sfida inventata dal mio amore in stile Sarabanda! Sarabanda! Sarà difficile di nominare Sarabanda! Dai! E' la musica da tossici sta qua! Ma è bassa! Non va a plati così! Metti dentro! Cellulare! Adesso facciamo una nuova sfida! Ti sento! Adesso facciamo una nuova sfida ma ti sento! Inventata dal mio amore! Inventata dal mio amore! Sarabanda! Il mio! Pio! Pio chi? Il mio amore! Ma che bocca! In stile! Che? Inventata dal mio amore in stile Sarabanda! Inventata dal mio amore in stile Sarabanda! Ok! Hai indovinato! Siamo a Bari! Siamo troppo gravi! Spero vi siate divertiti lo stesso! Noi ci siamo divertiti! E' da un po' che non ridevamo così! E niente ci vediamo! A presto! A presto! Ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Ciao!